Gli incidenti sul lavoro sono una drammatica e quotidiana realtà che sempre più spesso sfocia in tragedia, cioè nelle cosiddette morti bianche. La Lombardia vanta in tal senso un poco invidiabile primato visto l'inesorabile aumento di infortuni fatali. Lo mette nero su bianco la CISL, sindacato che negli ultimi tempi si è particolarmente concentrato su questa piaga dolorosa e purulenta, chiedendo anche a livello locale l'istituzione di un tavolo di confronto permanente tra prefetture, enti locali, parti sociali affinché il contrasto agli incidenti sia coordinato, compatto, concordato. Numeri alla mano, il dato regionale mostra un preoccupante incremento delle morti bianche. Tra gennaio e novembre del 2019 154 lavoratori hanno perso la vita in Lombardia. L'anno precedente si erano registrati 150 casi. Nel complesso la CISL registra invece una lieve flessione del fenomeno con 526 infortuni in meno rispetto al 2018. Parliamo di incidenti di tutti i tipi e di varie entità, dal più lieve al più grave, pur senza decesso, ma parliamo anche di 110.152 case in tutto, una vera e propria valanga fatta di sangue, ferite, mutilazioni, traumi fisici e psicologici con evidenti ricadute economiche sul sistema sanitario e previdenziale. Il dato provinciale vede in maglia nera l'area di Monza-Brianza che raddoppia il numero di mortali salendo da 7 a 14, più 52% per Brescia che sale da 19 a 29. In crescita anche il lugubre dato in provincia di Varese dove i decessi crescono dagli 8 del 2018 ai 13 dell'anno appena chiuso. In calo le morti bianche su Milano da 45 a 39, su Mantova da 21 a 14 e su Sondoro da 5 a 0, pressoché stabili gli altri territori. Per quanto riguarda i comparti più sensibili gli infortuni, più gravi continuano a riguardare l'industria e i servizi, più che raddoppiate le tragedie in agricoltura, più che dimezzate quelle nel settore pubblico.